L'ispirazione di questa collezione è il mare e quindi tutto quello che c'è sopra il mare e quello che c'è sotto il mare. Sotto il mare intendo anche quello che serve ai sommozzatori per cui le mute da sub, i pugnali per andare a cacciare i pesci, vedrete un po' quello che succede nel mare. I materiali sono tutti materiali molto molto tecnici, tantissimo nylon tinto capo, tantissime cose che non hanno le cuciture ma sono termosaldate, è una collezione tecnicamente molto proiettata al futuro. Verranno usati molto probabilmente non come li proponiamo noi, verranno presi dei piccoli pezzi che ognuno poi porterà con quello che ha nell'armadio, come usualmente si usa a fare. La musica è tratta dalla colonna sonora del film Lola Corre perché la vita è una corsa e per questo tipo di look mi sembra particolarmente indicato, al di là del fatto che trovassi un film meraviglioso con una colonna sonora stupenda. I don't believe in energy, the tension is too low, I don't believe in panic, I don't believe in fear, I don't believe in prophecies, so don't let us stay in tears. Hi, I'm Ryan Taylor, I'm from Toronto, Canada, and I'm with ING New York. When I'm backstage, I'll read a book, listen to music, talk to friends, you know, whatever I feel like. The shows are great, actually, you know, you have a lot of fun, all the guys are together so you can go and party, have a good time, you know, the shows aren't too, the runway shows aren't too difficult, so, I don't know, I think it's a good time. Everyone has their own opinion, though. I don't believe in trouble, I don't believe in pain, I don't believe there's nothing left of running here again, I don't believe in promise, I don't believe in chance, I don't believe you can resist the things that love you says. It's my own fashion. It's my own fashion. It's my own fashion. FTV.com FTV.com